Ciao a tutti, siamo nella palestra dell'Istituto Comprensivo Guido Alessi. Fino a poco fa c'è stata una lezione di educazione fisica per i bambini che hanno messo piede in questa palestra proprio appena rifatta e è stato bello parlare con i maestri e anche con loro e sentirsi raccontare le loro impressioni. Quello che li ha colpiti è appunto vedere un ambiente più colorato più un pavimento finalmente liscio dove poter giocare, dove poter fare sport anche le pareti sono state rivestite di una struttura lavabile quindi come vedete è pulita e resterà tale perché anche eventuali pedate saranno facilmente rimosse. Insomma siamo contenti, questa è una delle 30 palestre nuove che nel corso di questi due anni abbiamo realizzato. Il prossimo anno sono previsti altri interventi e volentieri ve li faremo vedere man mano che i lavori termineranno. Grazie Grazie a tutti.